I fatti di Guardavalle-Acri finiscono sul tavolo del governo e in particolare del sottosegretario Graziano Del Rio e del ministro Angelino Alfano e la deputata del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio, a rilevare come quanto accaduto sabato scorsa a Guardavalle in occasione della partita di calcio del campionato di eccellenza con l'Acri non può non destare fortissima preoccupazione. E' grave, continua la deputata Dem quanto denunciato dai giocatori e dai dirigenti della squadra dell'Acri in relazione a pesanti minacce subite prima dell'inizio dell'incontro da sconosciuti che hanno intimato loro di perdere la partita. Ad un giocatore è stato addirittura puntato un coltello alla gola. Soprattutto nell'ambito del calcio dilettantistico questi fenomeni sono abbastanza diffusi, si registrano sempre più spesso atti di intimidazione nei confronti di giocatori e di intere società sportive prima, durante e dopo le partite. Tanto da far dubitare che la motivazione sportiva sia davvero quella prevalente. Si tratta di episodi gravi che non possono essere sottovalutati e che richiedono una pronta e ferma risposta non solo da parte degli organismi di autogoverno sportivi ma anche delle forze dell'ordine e della magistratura. Occorre fare piena luce sui fatti accaduti a Guardavalle. Già in passato il fenomeno in Calabria era venuto alla luce attraverso incidenti gravi che in alcuni casi hanno registrato aggressioni con feriti in gravi condizioni e addirittura in un caso con una vittima.